buona serata a tutti cari amici sono tornato dopo l'impegno pomeridiano che mi hanno tenuto occupato dal primo pomeriggio fino a poco fa ebbene ho seguito comunque un po di live score la super partita di caruso e con una super rimonta ha superato con il punteggio di 2 a 1 rimonta ramanathan che è un indiano quindi giocatore padrone di casa che questi che questo indiano aveva vinto il primo set 6 3 in 47 minuti caruso ha vinto il secondo in 39 minuti 6 4 portando il punteggio sull'1 a 1 e in quasi un'ora 59 minuti ha vinto il terzo e ultimo set 7 5 assicurandosi il secondo turno in questo torneo ATP dell'India in questo sedicesimo di finale approdando agli ottavi i bookmaker avevano pronostico molto anzi alla pari 1 e 83 1 e 83 per entrambi caruso numero 98 ATP che batte numero ATP 182 e adesso credo che affronterà il vingitore di una partita che si svolgerà domani prevista al momento in orario matutino chiudiamo quindi caruso batte rimonda ramanathan padrone di caso indiano per 2 7 a 1 e accede al turno successivo del torneo ATP in cemento india ci vediamo tra un po perché parleremo della partita del campionato primavera che si è giocata nel primo pomeriggio di oggi a tra un po ciao